La scuola è la scuola per la scuola Team Emirates, l'applauso per Tadej Fogaciarra! Tadej Fogaciarra è stato prenduto da Augusto Sartori, assessore Grandi Eventi e Turismo Regione Liguria in omaggio floreale da parte Cordiano Sartori, presidente della Federazione Civistica Italiana un applauso per Tadej Fogaciarra! e ringraziamo pertanto Augusto Sartori, assessore Grandi Eventi e Turismo Regione Liguria e ringraziamo anche Cordiano Sartori, presidente della Federazione Civistica Italiana tra gli difetti colori del team Jay Coalula, applausi per Michael Matthews! e ringrazio! In questo momento, il premio da Giuseppe Faraglia, assessore al Turismo e allo Sport delle Comune di Sanremo Alessandro Ilagrande, presidente del Consiglio Comunale di Sanremo ancora un applauso per Michael Matthews! centoquindicesima edizione della Milano Sanremo Credito Agricola il corridore che arriva dal Belgio e difenditori della Alpesy Beccanica l'applauso è tutto per Jasper Filippsen! Jasper Filippsen riceve il predito da Costanza Piereri, vice sindaco del Comune di Sanremo e da Stefania Contestabile, responsabile di direzione regionale Liguria di Credito Agricola Italia ancora un applauso per Jasper Filippsen! ed ora, signore e signori, la vostra attenzione, in onore del vincitore verrà suonato l'ino nazionale del Belgio grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti! IASTER PHILLIPSEN, MAIGOL METRIUS, TADEI FOCACCIAR! IASTER PHILLIPSEN, MAIGOL METRIUS, TADEI FOCACCIAR! IASTER PHILLIPSEN, MAIGOL METRIUS, TADEI FOCACCIAR!